L'Agropoli torna al successo battendo per 3-1 il Savoia nel derby. La gara si decide tutta nei secondi 45 minuti. Il primo tempo è infatti noioso con le due formazioni che scendono in campo con tratte timorose. Le uniche emozioni le regala l'Agropoli al 28esimo con una conclusione al volo di Dattilio sul passaggio di Landolfi, al 36esimo con questa conclusione di Mallardo e al 40esimo con Ragosta che crossa per Dattilio, ben posizionato ma è bravo. Guarro a toglieri il pallone dalla testa. Nel secondo tempo invece la gara si fa più emozionante. La mossa che deciderà il match arriva al decimo minuto. Mister Delisanti richiama in panchina Landolfi, manda in campo Montano. Proprio al 14esimo è bravo Montano a servire un cross al bacio per la testa di Mallardo che non fallisce. 1-0 e rete di Mallardo numero 9 in campionato. Due minuti dopo lo stesso Bomber di quarto potrebbe raddoppiare. È bravo a togliere il pallone all'estremo difensore del Savoia ma poi non riesce a calciare. Il pareggio del Savoia arriva al 18esimo. Guarro in velocità, entra in area di rigore. Sosero lo atterra per il direttore di gara. Non ci sono dubbi. Calcio di rigore ed espulsione per Sosero. Dal dischetto si presenta Guarro che non fallisce. Terzo gol di Guarro all'Agropoli. Tutti e tre su calcio di rigore. Il Savoia ci crede. Mister Amura vara il tridente. E Savarese prova a portare in vantaggio i suoi con una conclusione al 24esimo che finisce alta. Al 26esimo invece l'Agropoli inaspettatamente passa in vantaggio. Punizione dei 30 metri di Ragosta. Palla che finisce dove il portiere del Savoia, Vitiello, non può arrivare. 2-1 per l'Agropoli che nonostante l'inferiorità numerica è riuscita comunque a portarsi in vantaggio. Dopo la rete i Delfini schiacciano il piede sull'acceleratore. Al 28esimo è bravo Capozzoli a tentare un'incursione in aria. Il tiro però viene bloccato. Al 30esimo invece Capozzi che si supera. Grande parata sulla conclusione di Padulano. Pallone in angolo. Sarà questa l'ultima occasione per il Savoia. Poi è soltanto Agropoli che è bravo a difendersi e a ripartire in contropiede. Proprio su un contropiede al 46esimo Capozzoli. Serve Mallardo al limite dell'aria. Il calciatore dribblo un difensore. Poi colpisce per la rete del 3-1 che chiude definitivamente il match. Negli spogliatoi Savoia ha contestato dei propri sostenitori. L'Agropoli invece esulta e fa un altro passo verso la salvezza. Tutta la squadra è riuscita ad esprimersi bene, sfruttando molto bene le fasce, cose che nel primo tempo non abbiamo saputo fare. Quindi c'è da elogiare in gruppo l'Agropoli perché ha disputato in dieci uomini un ottimo secondo tempo dove ha legittimato la vittoria. Quindi è stata una vittoria limpida. Una vittoria che è scaturita anche con una forte reazione perché sul calcio di legore è inesistente secondo il mio punto di vista. Abbiamo avuto una bella reazione. La squadra non si è disunita, ha creduto nella vittoria ed è riuscita a fare i tre punti.